Sindaco, questa conferenza stampa per dire che è stato firmato l'accordo con l'Eni? È stato firmato un accordo per lo sviluppo della città di Crotone con Eni. È un nuovo accordo, qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto abbiamo visto negli anni precedenti. Eni riconoscerà l'amministrazione comunale, io dico ai cittadini crotonesi, 16.750.000 euro nei prossimi cinque anni. È un qualcosa che è extra al danno ambientale, un qualcosa che prescinde dall'Imu, che prescinde dalle royalty, è un qualcosa in più che l'amministrazione ha ottenuto da Eni. Quindi un accordo che vedrà importanti opere infrastrutturali che abbiamo intenzione di realizzare con questi soldi. Avete già un'idea, un progetto? Guardi, stiamo lavorando anche sul progetto da diversi mesi. Il raddoppio della tufolofarina, dall'Animic vogliamo costruire una parallela che arrivi alla fedelissima e da qui si colleghi in via Inghilterra. Pensiamo di ripristinare i serbatoi di San Giorgio con 2 milioni di euro e soprattutto un progetto periferie per dare uno sguardo a periferie che ho trovato veramente abbandonate da decenni. Soldi dei cittadini e le utilizzeremo per fare cose importanti per la città di Crotone. Lei ha ragione nel dire questo, però dobbiamo dire che siamo sempre una città sottoposta a Eni in tutto e per tutto. Quindi insomma c'è un'alzata di testa, c'è un po' di autorevolezza da parte di questa città nei confronti del Eni o siamo sempre nelle condizioni che sono loro che decidono per noi? No, assolutamente. Questa amministrazione, in modo particolare il sindaco, non china la testa davanti a niente e non l'ha fatto prima che diventasse sindaco, figuriamoci oggi. Questo è un qualcosa in più che il sindaco, voce, l'amministrazione, i dirigenti hanno preteso e ottenuto da Eni che responsabilmente ha riconosciuto. Oltre a questo accordo si farà un nuovo accordo anche sulla subsidenza, ho detto almeno 4 milioni e 600 mila euro. Quindi anche da questo punto di vista invito i cittadini a stare tranquilli perché qui vede c'è qualche gufo che preferirebbe la distruzione della città. E io lo devo dire, lo devo dire e dovete consentire al sindaco di dirle queste cose.